Ragazzi prima di iniziare spolliciate veramente tantissimo questo video perché voglio una fraccata di like Minimo per questo primo pool su Legends da solo almeno 300 like Ragazzi mi raccomando se volete anche altri dual pool recuperate il dual pool per appunto con T-Log uscito due giorni fa qua sul canale Detto questo buona visione Eeeh ci sono Leonas e oggi ragazzuoli siamo tornati su Dragon Ball Legends per pullare ancora una volta caccia di Goku Super Saiyan 3 LF Ragazzuoli lo so vedrete un account un po' diverso ma tranquilli ho deciso io di ripartire anche altri sarebbero già di questa cosa Tra cui anche T-Log stesso e quindi ragazzuoli oggi ho deciso totalmente di ripartire da zero con un nuovo account E di pullare totalmente un giro completo dallo step 1 allo step 7 tutto su Goku LF Per sperare di trovare lui ma anche un Gogeta blu altri personaggi comunque di Team Saiyan o Super Saiyan che possono veramente farmi diciamo iniziare al massimo questo nuovo account Ovviamente ragazzi non sarò neanche free to play lo so perché l'altro account ragazzi non lo prenderò più Ho deciso così perché era messo malino quindi ho deciso totalmente di riniziare da capo con tutto da farmare E effettivamente sto già farmando abbastanza Quindi ragazzi ci siamo dilucati fin troppo e detto questo possiamo andare in game Eccoci qua boys in game Allora questo è il mio nuovo account ragazzuoli 5200 cc tra login tra anche farm delle quest missioni Tutte quelle cose ragazzi tra cui anche le mille simpaticissime cc che danno a inizio gioco Quindi tutti ragazzi free to play lo so questo è il mio nuovo account non c'è momento niente Però se troviamo con Super Saiyan 3 lab sono contento e terrò questo Altrimenti ragazzi vedrò un attimino cosa fare Ragazzuoli noi ci spostiamo subitissimo nelle summon Come vedete ho totalmente tutto il giro da fare abbiamo 7 multi summon perché l'ultimo è free E poi ragazzi abbiamo anche il ticket garantito che puleremo a fine dell'intero dei interi 7 step Andiamoci a vedere un attimino i personaggi che vorrei sinceramente su questo account Ovviamente go Super Saiyan 3 lab ragazzi il primo di tutti Continuiamo poi con Kid Buu non mi interessa Buanda non mi interessa Loro due sinceramente il giusto perché di poter giocare ma il giusto ecco effettivamente il giusto Lui mi interesserebbe tantissimo lui neanche per il Ka lui neanche per il Ka lui tantissimo Inoltre lui Broly si ci sarebbe mi interesserebbe lui lo stesso mi interessa Lui sinceramente non lo so ma vabbè magari vedremo un attimino Questo Goku mi interessa perché sono tutti Saiyan quindi mi interessano questa tipologia di personaggi Questo non mi interessa e poi già iniziamo con gli extreme ragazzuoli Quindi alla fin fine i personaggi che mi interessano sono i Super Saiyan Quindi Goku ragazzi è veramente il primo della lista Allora io direi già di iniziare con la primissima moltissima Speriamo veramente bene io ci spero in questo download ok Ci spero in questo go specialmente nelle F perché è veramente veramente bello Sarebbe il top trovare sia Goku che magari anche un Gugeta Treppodo ok ok Super Saiyan Potrebbe esserci la Sparking magari se vince lo scontro eh Ok 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 Vediamo un po' Rissdoro attenzione rissdoro ragazzi qui c'è l'SP Qua c'è la bellissima SP Ok Freezer sconfitto Ok prima molti ragazzi già si può arrivare qualcosa di interessante Speriamo sia qualcosa di bello interessante Non una solita Sparking mandata da random Ti prego non mi dare un'SP che non voglio Dai ma meno un Super Saiyan come SP nel senso A meno quella Comunque se all'Union si è stati vedendo che tutte le serie extreme SP Saranno nuove ragazzi è normalissimo Normalissimo Hero siamo già al quinto PG Goku Super Saiyan Prossima Hero siamo al sesto PG con Goku Extreme Identificate Fegite ok E tu che cazzo è l'SP ragazzi Dov'è l'SP ok Niente SP Penso ora Ecco l'SP ragazzi L'ho detto all'inizio del video che non mi interessava L'ho detto Si inizia bene i Legends Si inizia bene i Legends Mi stai già dando SP Che non me ne fanno dunca Quindi si inizia veramente bene Siamo a essere su Dockham V2 Fantastico Fantastico Ah tra l'altro si Oggi dovevo uscire il secondo Il terzo episodio della Road of Dockham Però comunque Tranquilli Perché se tutto va bene Dovevo uscire domani C'è stato un piccolo Contrattempo Più quanto riguarda il video Quindi ragazzi Tranquillissimi Se tutto va bene Speriamo non ce ne essendo altri Domani dovrebbe uscire il terzo episodio Ok Qui è un rip Più che un riff È un grande rip ragazzi Perché sinceramente Non volevo questo PG Non lo volevo Comunque un altro download Dimmi e c'è anche un altro SP Ti prego Gogeta Già di trovare Gogeta sarebbe Fantastico Manca un Goffins Attenzione Sfero nel cielo Sfero nel cielo Altro SP ragazzi Sfero nel cielo Vincerà Goku Ok pareggio Vabbè ma c'è le sfero nel cielo Quindi SP garantita ragazzi Release Vabbè Totalmente Al blu Ok Parità per adesso Ok Goku sta perdendo Vegeta Arrivò Vegeta ragazzoni Attenzione Final KMMA E via Tanta roba ragazzi Queste animazioni di agent Sono veramente belle Veramente belle Alcune sono nuove Beh Non lo so Le ho scoperte nel mentre io Alcune sono nuove Neanche avevo mai viste Ok Goku blu Ci sta Non è il personaggio Che sinceramente volevo Spero un altro SP In quest'anno ultimo Ma comunque ci sta Goku blu ragazzi Ci sta tantissimo Ovviamente sono tutti extreme Quindi O extreme O fake out O SP A random Così ma Penso che il PG Era Che le spiega Erano per Goku blu ragazzi Che l'animazione Era per Goku blu SP 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 Non ci credo Ma cacca Ah regà Ma siamo seri Ah regà Ma siamo seri 3 stelle Di non è multi Ma dai Ma bruttissima sta roba Cioè Ma nemmeno Ne facessi di così Tanto di Goku blu E' buono Ma Non ho il team Per giocare Cioè Non ho nessuno E' Realm of God Cioè Non ho nessuno Che brutto Davvero brutto ragazzi E' un team purtroppo Che non posso giocare Ma lui Doveva giocare In un team Dove non c'entra E' bruttissimo Stavolta ho già due personaggi Che non volevo O perlomeno O quello che volevo Ma no Ecco questo è un attimino Il mood Della situazione Peccato però Sinceramente Potevo darmi un gogetta Che sinceramente Era più giocabile Per quanto mi guarda Continuiamo ragazzi Qua è la multi Con i 5 Ticket Che vabbè Ovviamente puleremo A fine video Sperando di trovare Almeno un go Ragazzi In queste Multi rimanenti Animazione Un pod Bello Schifo Ok Mace form Qua c'è un 30 fake out Ci appena male Perde anche Ok Perde anche Go Perde anche Release Totalmente Questa è completamente Da schipare la multi Potrebbe benissimo Schiparla Ma non lo voglio fare Perché Ma io sono scuroso Magari ci scappa Il fake out Oh E capivo però Questa è proprio La multi Da me Queste sono tutte Hero Tutte Hero Ragazzi Ci scommetto 165 ticket Ma sono tutte Hero Extreme Ecco va Ho detto tutte Hero Delle extreme Ok Goku Oh Fake out Attenzione Attenzione Non ci chiedo Come è vicenda Ma che cazzo Si sta facendo Raga Ma come è vicenda Ma davvero Come è vicenda Ragazzi Ma davvero Come è vicenda Dai Ma non è possibile Ma che me ne fanno Come è vicenda Extreme Identify Out Un altro Barter Dai Ma è una barzelletta Questa E l'ho fottuta Come è vicenda Comunque Limit break Ragazzi Ci sta Vicente Go Io sono sincero Mi vanno bene Ma non li volevo Sembra essere tornati Tipo Al primo anniversario Dove c'erano Loro due Ma E ovviamente Ero contento Allora Ora non mi impidi tanto Perché Sinceramente Un Gogeta Super Saiyan O un Gofeng Super Saiyan 3 O Gofeng Super Saiyan 3 O anche il Gofeng Super Saiyan Quello del film degli androidi Mi piacerebbe veramente Un casino di più Sinceramente Però comunque va bene Va benissimo Osii Cinque ticket Che puleremo dopo Ragazzuoli Prossima Multisamon Mare al cielo Nei commenti Vi prego Alto download Abbiamo ancora Quattro multi A disposizione Ragazzi Speriamo veramente Che Ce la mandi Una buona Tre pod Prima c'è stato un bellissimo Fake out Possiamo sperare un altro Fake out Anche se in queste Multi Di transito Dele Last up up Non penso ci sia niente Comunque Release Rosso Ok Entra Super Saiyan Va bene Scontro parità Pareggio Entra Super Saiyan Ok Questo è Shaft A meno che non ci sia tanto Fake out Shaft anche questa Anche Shaft questa Extreme Entra Fake out Andro 16 Va bene Va bene Probabilmente Non lo do ragazzi Qualche extreme Barra hero Che non avevo Quindi è normale Ok TN Ok Altra extreme Non fake out 18 Stavo il 16 Perché è uscito prima Yamcha Continuiamo Con Goku Questo è multi Shaft La prima della giornata Multi totalmente Shaft 8 hero 2 extreme Fantastica sta roba Bella a me Ok Beh noi possiamo andare direttamente O la prossima multi summer Ragazzi Tanto qua ci devono Un ticket a volte Non ci serve a niente Un ticket a volte Perché dovrei fare Totalmente Iniziare un altro giro Per rifare un'altra Singoletta Ma Speriamo di Trepot ancora Oh ma è una presa per il culo È una presa per il culo Ma stiamo seri Ah raga Ma voi avete Shaftato così Cioè dai Rise blue Niente super zian Così Ok Super zian 3 Niente super zian 3 Oh è incredibile Extreme Niente fake out Friesa 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 Ok Krillin Continuiamo Con Genium Tarles Dammi un XP Dammi un XP Dammi un XP Se mi sentirete di dire qualche volta SSR per quelli normali Perché vengo da Dokkan Ok Ero SP SP Niente SP Ma questa Ma che Multi Da merda Ah raga Ma siamo seri Non ci sta uscendo Una beata Ceppa È schifosamente Schifosa La cosa Tutte extreme Hero che non mi interessano Basta Voglio un SB Super zian Ultima multi Con il cc Ragazzi c'è la free Poi facciamo il ticket Garantito Altro download Per un'altra Multi shaft Immagino Vero Oh c'è Altro pod È una barzelletta Ragazzi È una È una cazzo di barzelletta È una cazzo di barzelletta Parità È un list blu Guardate È una barzelletta È una barzelletta Ragazzi È una barzelletta Basta Ho deciso È una barzelletta Questa Non è possibile Non è possibile Non è possibile Extreme Potremmo schipparla Extreme Hero scusatemi Extreme Ecco l'extreme È una cazzo di barzelletta È bruttissima La situazione Ve lo dico È veramente brutta La situazione Stiamo già a 3000 cc shaft 3000 cc shaft Ok direi Ok Zarbon Un'altra extreme E un altro shaft Ok ragazzi Stiamo di fondo L'ultimo multi free Ultimo multi Qua nella bacia step Probabilmente Continuerò a pularci Off cam Poi vedrò se pulare qua O continuare magari O pulare sulla Legends Return Di Vegito Quindi Vediamo un attimo Di ragazzuoli Dove Magari consigliatemi Anche voi Qua nei commenti Perché lo sapete Non sono esperto Su questo gioco Anzi Ultimo multi free Ragazzuoli Di giornata 100% Download Dammi una cosa interessante Un pod Un pod Release Niente release Ancora non c'è Release Non sto su Dokkan Pareggio Dai Release Blu E marotorka Marotorka C'è un c'è verso Super Non c'è niente Non c'è niente Bellissimo Fantastico direi Questo è completamente schifo Questo è più schifo Delle altre Qua ci sono 10 hero No Se ci sono 10 hero Ragazzi Non è possibile Io confido Più che altro Nel ultimo ticket Extreme Niente fake out Nel ultimo ticket Ci conto Nei 5 ticket Che era singola Quella ci spero Spero non sia Una merda assoluta Almeno Spero qualcosa di utile Per il mio box Non si può neanche definire un box Attualmente però Comunque ci speriamo E ragazzuoli È il momento del ticket È il momento della singola Con il ticket Quindi andiamo subitissimo Che la fortuna Sia con noi Ragazzuoli Multi Con il ticket Mi interesserebbe Non lo so neanche io Sinceramente Magari anche qualche personaggio Super Saiyan Quello mi interesserebbe Ma quello e basta Un pod Super Saiyan Ho già Invisi Inoltato Ho già visto lo shaft Arriva Bardak Poteva arrivare Bardak Release Giallo Arriviamo un po' Questo è un SP normale Ve lo dico Non mi aspettate robe assurde Questo è un SP normalissimo Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Questo è bello Questo è bello Super Saiyan 3 Dammi come Super Saiyan 3 Per ora Dammi come Super Saiyan 3 Dammi come Super Saiyan 3 Sto giozzando Questo gioco Ragazzi Non sto giochiando E niente ragazzuoli Abbiamo Shiftato Abbiamo Shiftato pesante A dire il vero E infatti si Tutti i personaggi Del primo anniversario Ma Non ci ne fecava un cazzo Va bene Lasciamo totalmente perdere Ragazzuoli Per questo Premissimo video pool Su Dragon Ball Legends È tutto Spero davvero Che vi sia piaciuto Se così è stato Mi raccomando Subitissimo Un bel like E cerchiamo di superare Almeno I 300 like Per questo primissimo pool Ricordi inoltre Di recuperare Il dual pool Lo uscito due giorni fa Lo ritrovate Qua sopra Nescatra insieme Ad altri video Tutti i link Come al solito Per seguirmi su tutti Altri social In descrizione In primis Ovviamente Twitch E Instagram Ovviamente Ragazzi Torneremo in live Su Twitch Da domani Quindi mi raccomando Non mancate Gruppi Telegram DLV Se vi tocca Anche di Legends Mi raccomando Giorinateli E detto questo E let's go boys E ciao a tutti